Ciao ragazzi e benvenuti nel canale di Zio Franco, mi raccomando iscrivetevi e lasciate un commento che cosa devo portare in questo canale Vi dico già una novità, ci saranno le nuove malette della squadra di Zio Franco, la squadra Alfranco E vi lascio adesso con una super reaction di Blur Campione del mondo in palleggi con la testa Sono Gilbert Nana, campione del mondo in testa con 20.000 palli Oh, sei io che sono Gilbert Nana? Tu sei Gilbert Nana? Campione del mondo con 20.400 palli in 2 ore e 15 minuti Allora faremo una bella sfida ora E certo, e dove Zio Franco? Zio Franco non c'è, ma c'è anche il suo figlio Ma ci ha messo, ma ci ha messo le risate finte, ma lo prendono tutti per il culo Ma sapete che Zio è un figlio? Franchino, Franchino Dove è tuo padre? Al bar Sempre a bar lui c'è, c'è la figa, lui è sempre così Vabbè, comunque niente, Franchino, allora oggi faremo una sfida io e il mio amico Ma chi è Franchino? Si, Franchino ti sta per offrire 280 milioni per un anno All'Al Nassar Gilberto, ma è vero? Ma ragazzi, Gilberto, ma che... Mamma mia ragazzi, ma che cosa c'ha? Dio porco, ma è Tavolino visto da davanti Guarda che tu sei della famiglia Gianmarco Strongo Io sono il presidente di tutte le Gianmarco Strongo E voglio sapere se tu vuoi far parte della mia famiglia Faccio parte adesso della famiglia di Gianmarco Strongo E figlio, come vuoi? Franchino, anche tu? Ok, dopo troviamo Gianfranco il bar e così anche lui viene della famiglia Va bene? Va bene ragazzi, faremo una sfida e vediamo come andrà Ragazzi, io lo so che io facendo, guardando queste cose Semplicemente do addito ancora di più Ma vi posso assicurare Che ormai è fuori dalle mie mani È letteralmente fuori, è imbloccabile Ormai, c'è ieri, ieri, sì Io non so se qualcuno ha degli screen Della live di TikTok di ieri Se Mirko, non so se qualcuno me li può trovare linkare Se qualcuno trova degli screen, frate Cioè, ormai Se non c'è, cerci mi like Voi non fate parte della famiglia di Gianmarco e Strongo E mi sa che non ci so 4.000 4.000 Non nessuno fa parte della famiglia di Gianmarco e Strongo Perché io so prendermi dei ragazzi Chi si muove un po' più veloci Quindi 10.000 like su questo video Almeno Perché c'è stata Ma poi c'è la canzone di Crash Bandicoot dei sottofondo Per la famiglia di Gianmarco e Strongo Sino io sono capo 10.000 like ragazzi Quindi partiamo col video E un'altra cosa volevo presentare Mamma mia Frate Ma dove sta la cosa per donare? E' una roba detonazione alla Hollus Non l'ha messo Sì, non è tipo l'otto per mille Per una roba sulla droga E oggi abbiamo il portiere degli alievi Della squadra Alfranco Porco Dio frate Eh ma io credo che la Al Franco Non sia quell'Al Quell'Al non stia per una squadra araba Perché C'è Ma che Ma che c'ha? Ma che guanti so? Frate ma quelli so i guanti usati Boh non lo so Da 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 Misteri Probabilmente Porco Dio ma che so i guanti che gli ha dato Ragnar La squadra del CERT S&OA Bera bentornati Pat Miglio Auqua Scott Piero Piermaro Bentornati Rocco Per il sabbiftato Fibra Antonio Bentornati La squadra Alfranco Quindi portieri mi raccomando Fai il tuo meglio So che Non è facile Perché abbiamo un grande Gilbert Che è molto carico Abbiamo già fatto grandi tiri Oh E quindi niente proviamo Io sono Fredo Ho ancora male un po' il ginocchio E tra un po' ci sarà anche una super sfida Io contro Samley Per la finale del Superdoro Allora ragazzi partiamo con 5 tiri a testa Per riscaldarci Perché io ho un po' Ma le ginocchia Ma lui è molto carico Ragazzi Sono venuto qui per bucare Sergio Perché voglio ritornare a casa con questo palondolo Scusa ma perché gli è cambiata la voce Perché sembra più giovane Siamo pronti per i primi 5 tiri Allora parte Gilbert Nanà Col suo destro magico Una bomba Il portiere è bucato Il portiere ma è un aborto Ma attenzione parte Sergio Non piazzare la becca Sergio mamma mia che schifo Ma che è Ragazzi va bene va bene così Secondo tiro per Gilbert Nanà Gilbert Nanà che prendi la mila La portiere segre del parale del portiere Ragazzi ma attira dei bolidi Che belli comunque questi campetti In mezzo ai Ai palazzi vecchi E tutto Molto figlio Rispondi così Allora non posso più sbagliare No dovevi sbagliare No 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 Essi pressione ragazzi Essi pressione Essi pressione Secondo tiro Sergio Puz E la piazza Andiamo dove è bucare La tecnica ragazzi La tecnica Ha detto 7 cose che erano scollegate Non era non faceva fare una frase italiana La bomba un anno questo si prende questa azione un gelato quarto tiri per gilbert nana ma si ma gilberto ogni tiro dice a quanto va dei chilometraggio poi ha detto il monte lo tiro solo a 120 incredibile che mette la potenza è parato ancora nel portiere bravo il portiere bravo ti è tirato in bolla allora ragazzi non posso più sbagliare eh ma già prima non potevi più sbagliare Sergio cominciate a riscaldare la gamba quindi facciamo questo proprio pareggio ragazzi lascia il cantare il portiere prende quello là per favore lascia il cantare Sergio ed è golla ragazzi ma Sergio o Don Cruz ma che gli sta succedendo ma perché ogni tiro o lo prende di raso terra o scivola quindi se sei a nana è anche io il primo pareggio sfuggito ha risbagliato la frase non si è capito un cazzo però te in due non riescono a mettere in croce due parole porco dio eduardo matt gioele cioccolato bentornati matt grazie gilberti parte il tiro la bomba centrale il portiere è bucato allora ragazzi è importante che faccia questo gol perché così almeno pareggiamo la prima no 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 ragazzi non c'è nessuno gol il portiere ricordi con lui non mette la forza lui mette l'angolino adesso non guarda il parola fino alla fine vediamo Sergio se la pareggia o la sbaglia e la piazza prima sfida abbiamo pareggiato tre gol a testa oh ragazzi c'è che cosa che non va dentro tre gol a testa ragazzi gite sotto commenti eh perché c'è l'imbruio dovete dovete dire la traduzione brate c'è l'imbruio c'è l'imbruio valide prego la testa ragazzi gite sotto commenti zitt ragazzi zitt commenti eh sotto commenti omofobo maschilista di merda eh perché eh perché che cosa c'è cosa c'è c'è l'imbruio c'è l'imbruglia c'è l'imbruglia scrivete sotto commenti voi che avete visto allora abbiamo fatto un pareggio questa prima fase vediamo sulla seconda fase la seconda pagina ragazzi noi gli dobbiamo vincere la seconda pagina ragazzi non gli dobbiamo vincere come va a essere il 98 sembra che c'ha 50 non c'è niente da fare è quello che aveva comprato la Lazio però noi siamo destri quindi vediamo della destra come calciamo Cristo povero il primo tiro vediamo come va è portiere guarda bene è Minala guarda bene che ce lo dà e il portiere fratello sa che può pure rimane fermo quando il tiro è centrale ragazzi c'è ma insieme al terzo che golasso ma fratello ma lo stanno bullizzando dobbiamo salire di più Manu, Moli, Andre, Nico bentornati ragazzi ragazzi in Anah mi ha dato tantissimo quello è successo si sta allenando da solo da casa di la verità si sta allenando attenzione pare per il secondo tiro Gilberti la super bomba ancora gola ti stai allenando oh eh 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 oh Agna la prossima sarà te eh perché la 100 tiro della Nepro di questo anno non sarà più quello che ci ha visto la Nepro allora le prossime scusami non ho capito Gilberto devo essere onesti oh Agna la prossima sarà te eh perché la 100 tiro della Nepro di questo anno non sarà più quello che ci ha visto la Nepro allora le prossime sfide per la 100 tiro è carico bello non sono riuscito a stare appresso ragazzi mi sta mettendo difficoltà un buon Gilberto Nana che si sta allenando con una grande squadra come di terza categoria ragazzi complimenti Nana attenzione è importante che sbaglia questo dai portiere tanto lo so che calci di forte tu e diamo ok questa sbagliata è riuscito a parare una palla speriamo di fare gol ancora sei pronto? bene golle non si fa prima ragazzi 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 Ragnar ha trovato finalmente il suo degno avversario cioè ma sto portiere è veramente una roba inguardabile K scozzese Tommy Gianmarco pane bentornati non si fa adesso devi segnare perché se Ragnar guarda il video la nostra sfida sarà incredibile sbagliare questo eh sì bravo fammi stare zitto prima vittoria ammutualiscimi ammutualisci il buffone tranquillo allora lui non lo sa però dall'altra parte calcieremo col sinistro sì 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 sei pronto? sì sono prontissimo ragazzi sono ambidestra comunque ragazzi lui è ambidestro quindi calcia con tutte e due tutte e due tutte e due non c'è nessuno io con il sinistro sono bravissimo però quindi vediamo deve vincere questa volta come Gilberto ha rimesso la storia con l'audio ragazzi Jacopane bentornati grazie sono Gilbert Nana campione del mondo in palleggi con la testa con 20.400 palleggi in 2 ore e 15 minuti prima di concludere questo tiktok vorrei salutare mio padre Gianmarco Esdrongo e voi ragazzi un pareggio e una sconfitta vediamo ultima sfida di sinistro parte Gilberto ragazzi ragazzi cosa dire Mirko fa meno spaventare ma ci ascolta meno male che era ambidestro zio Pogba bomba che bomba ragazzi ma che so quelle mani c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va dobbiamo abbassare un po' dobbiamo abbassare un po' tiro abbassare non abbassare che se letteralmente stai prendendo una tipa per farti succhiare le palle cioè in porta lui non lo prende mai primo tiro guarda che c'è l'air sinistro si vabbè dai però ma il portiere è andato 1 a 0 meno male che era ambidestro gilapasch bentore ci sta a guardare Gilberto è gol abbiamo anche i tifosi lì che stanno stanno arrivando qua i nostri tifosi stanno arrivando qua perché non abbiamo avvisato nessuno che ad angolo termine ci saresti questa sfida tra Gilberto Neon e Sergio Cruci quindi finiamo la sfida vai vai ma sai che sta affila oh scama Andre bentornati vai Gilberto vai Gilberto vai Gilberto oh è bella rincorsa dei rullativi oh parte Gilberto 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 ma tu mi hai venduto che eri ambidestro Gilberto mi hai detto una stronzata Gilberto ma questo non questo non è degno del capo della Gianmarco e stocco in sdrongo in straga no no lui non posso segnare ragazzi tranquillo bello bello così va bene siamo ancora a pari con i tifosi a testa è fuori dal cappello dal cappello Gilberto dal cappello ok siamo lì siamo lì siamo lì adesso va andiamo andiamo guarda 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 come è l'uppressa psicologica se io sbaglio lui se è finita don cruz vince letteralmente qualsiasi sfida perde con con Gilberto il nano andiamola a ceccare andiamola a ceccare ma che c'è in fili qua c'è in fili il quadrato ma non mi è arrivato nessun coso non mi è arrivato nessun nessun screen di Gilberto abbiamo pareggiato due partite e una vittoria per me se invece io sbaglio abbiamo pareggiato perché io ho fatto una vittoria ragazzi deve sbagliare non c'è niente vai 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 sbaglia dai Sergio sbaglia allora per fortuna è partito sinistro ragazzi ma Sergio don cruz per Eira si se mi sembra già stron cioè letteralmente si gioca la famiglia ogni volta ce l'hai Mirko mi puoi mandare uno skin per favore Luca grazie per i tre non c'è la benzina qui possono spaccare non c'è la benzina continua a non esserci benzina non se l'è per niente voglio dire qualcosa arbitrino non se l'è legata fortunatamente al dito Gilberto per favore non so che ci mi voglio vai meno con me bro dai adesso rega come l'ho detto si c'è 10.000 like 20.000 20.000 like 20.000 like una partita nella gabbia 20.000 like like 20.000 like 4.000 like ma è orribile ma è un terribile approccio questo di like non va benissimo allora dovrei avere Gilberto il nano ieri su tiktok vabbè fate tap tap almeno cioè fate tap i taggi i mortacci tua vabbè rega l'ho fatto via un corpo sentite scusa ma perché c'è scritto pagliari come cazzo mi dite come se leva sto cosa porco buongiorno fate tap tap almeno ragazzi ma sembra un animatrone di cosa ma è inquietante sembra letteralmente 5 notti frate ma che è cristo cane ma ma no ma mo sogno la notte mo sogno ma via 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 assolutamente chiudere zio porco allora che ore sono oh